Radio Bari le 8 e 8 minuti di martedì 2 luglio, bentrovati nella seconda parte di Be and the Gang come avevo annunciato in apertura di puntata, quest'oggi parliamo di stalking. Perché ne parliamo proprio oggi? Perché ieri pomeriggio in Sala Miura è stata presentata una proposta di legge che riguarda proprio questa questione molto importante di cui purtroppo sentiamo parlare ogni giorno. Vi presento innanzitutto i miei ospiti e poi continuiamo a parlare. Alla mia destra Niki Persico, scrittore e autore, anzi uno degli autori della proposta di legge. Buongiorno. Buongiorno a voi. E invece alla mia sinistra lo conoscete Pino Gesmundo, segretario generale CGL Bari. Buongiorno. Buongiorno. Allora ieri la presentazione in Sala Murà di questa proposta di legge, innanzitutto come vi è venuta questa idea di presentare questa proposta? Perché? Beh questa idea nasce da, intanto noi facciamo attività antistolti da molto tempo, da molto prima anche che uscisse la legge, quella del 2009 e io e Lara Cardella in particolare abbiamo presentato i nostri romanzi congiuntamente a un festival di Bergamo e ci siamo chiesti qual era il termometro della situazione, visto che come sotto gli occhi di tutti questi omicidi a seguito di persecuzione sono sempre più frequenti. Ieri sera purtroppo altri due casi e evidentemente abbiamo realizzato un seduto a stante che mancava ancora qualcosa perché la sensibilizzazione ormai è stata raggiunta, la contezza del fenomeno da parte della società c'è però il fatto che questi fenomeni continuano ad accadere con questa frequenza, anzi sembra quasi che siano aumentati evidentemente dava il segnale chiaro e forte che serviva qualcosa di più concreto e quindi abbiamo pensato di fare un appello per creare una normativa che desse più strumenti sia agli operatori del settore della sicurezza, diciamo ai PM, alla polizia però abbiamo pensato anche di non presentarci a mani vuote quindi abbiamo stilato una bozza che poi tempo fa la CGL di Bari aveva creato il forum di Sochi e appena l'abbiamo accennato a loro, in particolare a Pino Gesmundo non ha esitato un secondo hanno raccolto il vostro appello abbiamo un giorno l'ascoltatore in linea, pronto? è pronto e buongiorno buongiorno signora allora io volevo dire la mia io ho avuto un problema in sede di riunione di condominio c'è una persona che dice parolacce e purtroppo sono stata offesa diciamo abbastanza fortemente da questa persona perché oltre alle parolacce fa un gesto col dito insomma non voglio specificare questo allora questa è una cosa che si ripete da anni allora io mi sono scocciata sono andata alla polizia e ho detto devo fare denuncia per stalking perché questa persona mi offende e mi perseguita con queste cose allora ha detto alla polizia no signora lei deve andare prima all'avvocato deve fare così deve fare colà e poi delle processi allora io ho pensato questo se c'è tutta una procedura così lunga allora tutte le donne che hanno problemi di stalking di parolacce di diciamo di come dire di essere perseguitati dai mariti dai fidanzati poverine muoiono subito perché nell'attesa che la giustizia faccia il suo coso per l'avvocato per la polizia e tutto il resto questo amore è già morta difatti tutte le donne sono ammazzate per la lungaggine che si propina per queste cose allora io dico questo è necessario andare all'avvocato pagare l'avvocato poi andare a fare la denuncia e tutto il resto povere donne noi siamo praticamente precipitati in un burrone incredibile e questi continuano ancora a fare tavole rotonde riunioni e tutto il resto ma che cosa combinate perché voi non fate niente perché voi vi credete fatti perché siete uomini ma siete dei pezzi di merda scusate grazie grazie capisco che l'argomento fa infervorare gli animi però ovviamente usiamo un linguaggio consono alla televisione soprattutto all'orario comunque l'intervento della signora è stato davvero opportuno questa proposta di legge va ad integrare comunque una normativa che già esiste ricordiamo che lo stalking è rubricato nel codice penale come atti persecutori allora in che modo va ad integrare la normativa già esistente? beh intanto io vorrei rispondere alla signora capisco l'arrabbiatura poi ci sta tutto insomma noi abbiamo provato infatti proprio a rispondere a questa vicenda la vicenda che ci viene rappresentata la nostra è una proposta di legge che mira essenzialmente ad accelerare i tempi per l'aggressione del fenomeno perché è vero quello che dice l'ascoltatrice ci sono tempi troppo lunghi e così dilatati che sottopongono maggiori rischi le donne e chi vuole denunciare abbiamo letto ieri il 70% delle donne è un dato statisticato poi noi pensiamo io e Niki che addirittura il fenomeno sia ancora più ampio il 70% delle donne non denuncia e non denuncia perché è evidente che la denuncia espone ulteriormente le donne ad ulteriori rischi e quindi impedisce che vengano perseguiti i reati che vengono commessi in questo caso dagli uomini che mirano a storkizzare ma soprattutto devono prevaricare alla fine ad ammazzare le donne quindi noi abbiamo ragionato perché è ovvio che come diceva Niki noi vogliamo mettere a disposizione degli strumenti concreti perché non è che poi facciamo i convegni tanto perché vogliamo stare in televisione un giorno non è questo quello che ci interessa abbiamo fatto questa proposta di legge che nell'allo della proposta di legge così come l'abbiamo buttata giù noi peraltro consegnata nelle mani autorevoli del vice presidente del senato mira a dire aiutate le persone come dire sintetizzato aiutate le persone che vogliono denunciare a farlo andate agli incontro fatelo in maniera veloce i rischi di tempi dilatati comportano il fenomeno diciamo che stiamo leggendo tutti i giorni o della non denuncia o addirittura diciamo del fatto che poi le vittime vengono perseguitate e soccombono rispetto alla vicenda ma abbiamo fatto un'altra cosa un po' più concreta già tempo fa abbiamo messo a disposizione uno sportello sul nostro sito un forum niente ci fu attraverso il quale le vittime di stalking possono rivolgersi e dietro a quello sportello dietro a quel forum ci sono avvocati ci sono tecnici esperti persone che possono aiutare a denunciare riceve assistenza a 360 gradi prendiamo un'altra telefonata pronto? buongiorno buongiorno signora allora in questo caso sono anche le forze dell'ordine che devono intervenire subito e non dire noi non possiamo fare nulla perché sua figlia è maggiorenne allora io invece ho fatto il mio dovere ho rischiato molto perché l'ho affrontato di persona grazie a Dio in quel momento qualcuno mi ha dato il coraggio di farlo però alla fine ho ringraziato le forze dell'ordine per il loro dovere mancante però c'è anche un altro motivo c'è molta gente che vede ascolta e non denuncia io invece se vedo e ascolto io sono una che chiama in anonimato però bisogna intervenire perché questa gente non sempre può denunciare perché molte volte si ha a che fare con degli animali forse neanche animali perché loro sono migliori di noi quindi bisogna fare delle leggi però devono essere punitive ma veramente altrimenti se non sapete cosa fare li impicchiamo noi stessi agli alberi sotto il sole grazie grazie signora per il suo intervento 080 501 4668 il numero per intervenire in diretta vi ricordo stiamo parlando di stalking della proposta di legge presentata ieri pomeriggio parliamo un attimo di numeri leggo qui 2061 le donne morte dal 2001 al 2011 7 su 10 sono morte in famiglia parlavamo anche del numero di donne che invece decidono di non denunciare forse per paura prima invece stavamo dicendo che forse a volte molte donne non si rendono neanche conto di essere vittime di stalking perché per quanto se ne parli di stalking magari ci sono cose che non vengono vengono pensate come atti persecutori diciamo così sì intanto io se posso solo volevo dire qualcosa perché ha toccato dei temi importanti e sottolineare che questa norma come diceva Pino prima mira proprio a questo cioè intanto a fornire le forze dell'ordine di quegli strumenti che possano consentire di intervenire perché entro 48 ore viene messo un divieto di avvicinamento e alla violazione dovrebbe essere previsto l'arresto quindi tutte queste problematiche verrebbero se una legge del genere fosse esistente e noi ci auguriamo che lo diventi presto risolte quindi lo dico beneficio degli ascoltatori perché immagino quello che ha chiesto la signora sia cosa che pensano in tanti per quanto riguarda la domanda che invece mi hai rivolto sì effettivamente i numeri sono terrificanti anche perché noi ragioniamo in questi termini 124 donne ammazzate facciamo l'esempio nel 2012 sono la punta dell'iceberg sono magari 1240 omicidi mancati perché è squilato un telefono è passata una macchina o c'è stato un cambiamento di idea all'ultimo momento i numeri delle persone perseguitate si aggirano intorno a cifre a 6-0 cioè parliamo di milioni quindi il problema è vastissimo questa legge arginerebbe anche il proseguire l'opera della persecuzione che molto spesso dura tanto negli anni la consapevolezza delle vittime come dicevi tu giustamente prima è un altro tasso dolentissimo perché molte donne in qualche maniera per una serie di meccanismi perversi che io tra l'altro ho raccontato in un libro che ho scritto da poco e non si rende conto della manipolazione tende a giustificare il manipolatore o addirittura fino a un certo punto del percorso manipolativo si assume la responsabilità di quello che sta accadendo dice a se stessa o agli altri sono stata io perché ho fatto questa cosa o perché avevo quella gonna o perché ho fatto quella cosa che gli dà fastidio è un fenomeno diciamo di perversione dei rapporti indotto dal manipolatore quindi sono discorsi che ricadono poi nella psichiatria non sono persone malate ci tengo a dirlo sono persone che hanno semplicemente una tipologia caratteriale aggressiva una tipologia caratteriale prevaricatrice e di solito il problema è quello della consapevolezza da lì è nata anche l'idea del forum da Light and Stalking poi a niente ci fu cioè creare un luogo dove le vittime possano parlare tra loro confrontandosi riconoscere che il proprio stato non è uno stato appunto come dicevamo prima autoindotto ma è creato da qualcun altro e che non si è sole in questa cosa le vittime poi sono particolarmente sensibili sono molto delicate perché di solito attraversano periodi psicologici fragilissimi fra di loro riescono a darsi quegli spunti a essere comprensive al punto tale da indurre altre vittime ad essere consapevoli e quindi a iniziare quel percorso di reazione che poi porterà a un exit strategy chiamiamola come vogliamo però quello è il momento fondamentale grazie a tutti